Punto sul calciomercato, non parliamo più di nazionale, mi sto amareggiando, mi sto amareggiando a sentire queste parole, tante parole sulla nazionale, ho l'impressione che non andiamo neanche al terzo mondiale, se questo è l'andazzo non lo so se andiamo al terzo mondiale. Ragazzi, signori, sto leggendo e vedendo cose, parliamo di calciomercato, parliamo di calciomercato e ritorniamo ai club, ritorniamo ai nostri club, all'Inter, a Juve, Milan, Roma, Napoli, queste cose qua, ritorniamo a queste cose qua, ci divertono di più. Come sta andando questo calciomercato? Si apre oggi, si apre oggi. Allora, Juventus 4 a 4, Douglas Lewis, si parla di Turam, stanno facendo uno squadrone, questi qua stanno facendo uno squadrone, oltretutto la vendita di Ken, ovviamente tutto quello di cui parliamo sono cose comuni, ormai diciamo è cose che si leggono nei giornali, non c'è niente di che, però diamo un commento a questo calciomercato. Cioè, ragazzi, la Juventus sta davvero costruendo uno squadrone, il Milan, ma con il Milan si parla sempre, sempre, ma ogni anno, ha la stessa storia, c'è sempre tante parole sul Milan, alcuni dicono, ci sono alcuni opinionisti che dicono, eh ma la buttate sempre in vacca quando si parla del Milan, non è che uno la butta in vacca quando si parla del Milan, è che ci faccia capire qualche cosa. Eravamo lì con Zirke, ormai Zirke era lì ed è veramente forte, perché questo è un ragazzo giovanissimo, sembrava ormai toccato, sembrava già che si stava mettendo la maglia, sembrava già nello spogliatoio, adesso si parla di Lukaku e di Abram, cioè Lukaku ed Abram. Io non ne sto capendo niente, niente, sono voci che noi vediamo nei giornali, sono voci che vediamo sul web, sono queste voci qua praticamente che sono il dominio comune, però dopo l'ufficialità manca. Ma il Milan si legge di Fofanà, di Emerson Royale, si legge di questi nomi, questi nomi qui. Va bene, il Milan in effetti, il vero quid, la vera situazione del Milan, sapete qual è? Si chiama, ha un nome solo, un nome solo, è quello di Fonseca. Fonseca, ancora non è stato presentato, perché sono molto curioso di sentire Fonseca, come metterà la squadra, cosa vuole fare la squadra, a metà di questo mese inizia la preparazione per tutti, quindi deve avere i giocatori, e il Milan è stato accanto e sarà Lukaku, Lukaku secondo me, potrebbe anche essere il Napoli, con Conte, potrebbe esserci tutto il contrario di tutto, ma si devono sbrigare, perché dopo ci ritorniamo al Milan, e se pensiamo all'Inter, l'Inter ha tutto apparecchiato. L'Inter è già pronta per sedersi apparecchiato al portiere Martinez, a Remi e Zelischi, hai detto poco con Zelischi, con Zelischi c'hai Zelischi, Barella, Frattesi, Miktarian, Aslani, ce le hai i giocatori in centrocampo, le ali hai coperto, hai 24 giocatori, le ali da una parte c'hai Di Marco, Carlos Augusto, dall'altra Darmian, Dunfres, se Dunfres resta. Ecco, forse, secondo me, io mi aspettavo uno, un centrale, però c'è De Vrij, a me De Vrij non dispiace, c'è Erbi, hanno tutti però un anno in più, è un anno in più, è pesante, a questa età ovviamente è pesante, ci mancherebbe, c'è Bastoni, c'è Pavard, i giocatori ci sono, c'è Bissek che a me piace tantissimo. E là davanti, ragazzi, avete visto Lautaro, cosa sta facendo Lautaro, quattro gol, entra da subentrato, da subentrato dopo tocchi che sembra, a certa volta a me sembra Messi nei tocchi finali, dopo tutto lui si allena con Messi, guarda quello che fa Messi, e queste cose qua contano, e se contano, tu ce l'hai là davanti, gli rubi un po' di, insomma, il modo come ti metti il piede, il ginocchio, queste cose qua, le guardi, le guardi, e dopo le fai anche tu, quindi noi abbiamo Lautaro, dico noi perché sapete tutti che sono interista, abbiamo Lautaro, abbiamo Turam, abbiamo Taremi, e già c'è Bastarebbero, però dopo c'è Arnautovic, Correa, insomma, c'è da capire là davanti se c'è da prendere qualcos'altro. Carboni, questo giocatore, si parla di tanti milioni per Carboni, giustamente è un giovane, sei già in area di nazionale argentina, se te lo togli, dici, io me lo tolgo una certa cifra. Vediamo, adesso vediamo quello che fa l'Inter, in teoria l'Inter potrebbe anche chiudersi adesso, il calciomercato, la squadra l'ha fatta, sono le altre che stanno un po' rincorrendo, Napoli, Conte, e Conte sembra lì a parlare con i giocatori, quello che leggiamo, cioè a capirsi con i giocatori se vogliono rimanere o non rimanere, è una situazione particolare, ma Osimene, non sembrava tutto pronto, ti metto la clausola e ti pagano la clausola e ti pagano anche quel super stipendio, attenzione a Osimene se rimane o non rimane, perché Osimene potrebbe anche rimanere, se ti rimane Osimene non prendi Lukaku, se ti rimane Osimene in pancia non prendi Lukaku, e questa secondo me ci sarà un'attesa, e questo sarà uno dei tormentoni di questo calciomercato, certo che se va via Osimene, se qualcuno paga la clausola e Osimene va via, si apre un versante per tutti, cioè si apre un turbiglione di attaccanti a destra e a sinistra, la Fiorentina con Can ha dimostrato un po', cioè sì si sta rinforzando, però quel passo in più, quel comprare quel qualcosa in più, non lo sto vedendo, l'Atalanta, l'Atalanta insomma, attenzione all'Atalanta, perché l'Atalanta ha vinto l'Europa League, si farà la supercoppa con Real Madrid, cioè all'estero l'Atalanta viene considerato uno squadrone, incominciamo a considerarlo uno squadrone anche noi, perché ha preso De Cattelere, ha preso, se non ricordo, dovrebbe avere concluso questa situazione, qualche giocatore, incomincerò anche sul punto sul calciomercato a dare un'occhiata all'Atalanta, non far mai sfuggire, la marca Duomo, la marca Duomo. Roma, si fanno dei nomi sulla Roma, però non è che proprio Roma, la Roma perde Lukaku, la Roma perde Lukaku che gli ha fatto un sacco di gol quest'anno, e continua con Abram, cioè Abram farà gli stessi gol, o farà lo stesso lavoro sporco anche che ha fatto Lukaku, non lo so. Io al posto di De Rossi, vorrei capirla questa squadra, vorrei dopo Spinazzola, credo che Spinazzola lasci, se ho letto bene Spinazzola lascia, oddio, però mi sa sempre di una Roma incompiuta, un po' lasciata a se stessa, a me la Roma non mi dà mai la... se io vedo l'Inter, è chiaro che sono interista, però vedo l'Inter e i giocatori so quali sono, cioè i 11 in campo lo so quali sono, persino il Milan potrei anche dire, perché il Milan comunque c'ha il ritorno al Milan, Pulisic, Loftecic, Musa, Leao, Hernandez, Magnan, Tomori, lo sai qual è la squadra, la Juve sta costruendo e se la sta facendo bella la squadra, a Roma, ma perché la Roma deve essere semplice, deve auto-essere, auto-sentirsi, non al livello, di quelli, dopo i Fredrick, non l'ho capito con questa storia dell'Everton, se hanno preso o non preso, non l'ho capito, non lo so, ma ho confusione, cioè anche lì mi sento un po' così, faremo appunto sul calciomercato, ma non lo voglio fare come l'anno scorso, ogni volta vi devo dare situazioni, sapete quanto ne leggo di situazioni, ma sono le questioni che alzano e dopo scendono, alzano e scendono, ci potrebbero essere dei grossi colpi che accendono la fantasia? Certo, mi aspetto i grossi colpi che accendono la fantasia dal Milan, che ne ha bisogno se vuole inseguire l'Inter, dalla Juve, e la Juve si sta muovendo sotto quel punto di vista, dopo c'è questa situazione a rabbio, va, non va, resta la Juve, rinnova con la Juve, Milan, non si capisce, però devono chiudere, devono chiudere anche l'allenatore stesso, cioè devono chiudere la stessa situazione, fra poco ci sarà la preparazione, cioè fra poco tu devi avere la tua squadra, ti manca un giocatore, forse, ma se te ne mancano due, tre, quattro, cinque, cioè se è un cantiere aperto, hai voglia dopo a mettere i giocatori alla fine, cioè dopo gli dai i giocatori a metà agosto, quando inizia il campionato, lo metti là, gli spieghi fra quattro parole, beh, perdi un po' la preparazione, la perdi un po' la preparazione, però sono fatti, diciamo, ovviamente sono fatti dei vari direttori sportivi, delle varie aree tecniche, l'Inter mi sembra quella che si è mossa meglio, si è mossa già da tanto tempo, la Juve si è mossa benissimo, perché la Juve ti sta facendo vedere qualcosa di nuovo, ancora ne ha cose da raccontare, il Milan non mi sta piacendo, però questo non vuol dire che farà male, magari alla fine ti fai colpi, l'anno scorso, bisogna dire la verità, l'anno scorso dopo ti ha preso Loftucic, ti ha preso Pulisic, ti ha preso Musa, ti ha preso Tukuez, ti ha preso Caffori, ti ha preso Jovic, li ha presi i giocatori, li ha fatti verso la fine, se non ricordo male, e credo che magari lo possa fare anche quest'anno, la Roma non mi convince, e anche il Napoli, il Napoli deve anche capire un po' i giocatori, oh, la spesa di Conte c'è? Non c'è? Non lo so, non lo so, è dopo l'Atalanta, e zitta, zitta, guatta, guatta, l'Atalanta è forte, zitta, zitta, guatta, guatta, l'Atalanta è forte, si era parlato di Cupominers, qua a destra, a sinistra, ma questi giocatori ce l'hanno a go go, ogni volta ne escono uno nuovo, ragazzi, questi ne escono uno nuovo, i giocatori, Luckman, che è venuto, e sono forti, sono forti, ma lì è l'Atalanta. Però, seguiremo così questo calciomercato, con le discussioni che si fanno ormai sulle situazioni che leggiamo sul web, diciamo, dominio comune, ecco, diciamo, dominio pubblico, facciamo così, seguiremo questo calciomercato, piano piano, secondo me ci appassionerà e ci piacerà, guardate che fra poco iniziano le preparazioni, iniziano a prepararsi le squadre, quindi allenatore, tutti, diciamo, i tifosi che vanno, fra poco si inizia, perché la prossima stagione, è una stagione serratissima, ci sono tante partite, una dietro l'altra, vediamo, questo è il canale YouTube Calcio più bello Italia del mondo, quindi iscrizione, 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 seguiamo, come sempre, queste situazioni calcistiche, post partita, o calciomercato, ci divertiamo, il bar dello sport, il bar dello sport, siete tutti invitati, alla prossima nazionale, ma hanno una amarezza. Ciao ragazzi, ciao a tutti.